Posizionatevi in stazione retta davanti a una colonna o una porta. Portate il gomito flesso a 90 gradi e la mano contro il sostegno. Da qua, tenendo fermo il gomito e la spalla, spingete con la mano verso l'interno, senza generare movimento. La contrazione è isometrica e sarà massima. Mantientela per il tempo indicato, dopodiché rilasciate e tornate in posizione di partenza.